Il numero 13, Adri Lui, numero 31, Canizas, numero 10, Modric, numero 14, Jusselu, numero 17, Lascaz, numero 19, Neppoli! Con il numero 1, Alonso! Numero 3, Natal! Numero 9, Vito! Olidea! Numero 17, Mattias! Olidea! Numero 20, Pietro! Elisti! Numero 21, Matteo! Olidano! Numero 20, Noelle, Capitano! Giamatti! Il numero 8! Numero 55, Leo! Ottima! Numero 68, Samislamo! Novozza! Numero 77, Glicia! Buona schiena! Numero 99, Frank Zampo! La vista! A disposizione dell'allenatore, Mr. Rodi! Buona schiena! Numero 14, Michita Contini! Numero 16, Uber! Numero 16, Uber! Il numero 15, Berti! Il numero 23, la giro! Il numero 15,-la! Il numero 23, la giro! Il numero 16, warri! Il numero 16, warri! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.